Buongiorno, bentornati a Stories di Successo del Sole 24 Ore. Siete tornati in diretta, come ogni martedì, sul sito e sui social del Sole 24 Ore per parlare di una nuova storia di impresa, di impresa digitale, di impresa innovativa. Oggi parliamo di una start-up che aiuta le start-up a sopravvivere, a lavorare bene e a superare quel momento che spesso accade, quel momento di debolezza, di rischio che c'è subito dopo la nascita di una start-up. Quindi una start-up che aiuta le start-up, sembrano scioglilingua, ma in realtà è una cosa molto importante. La start-up, attenzione, arriva un altro pezzo di scioglilingua, si chiama Startax e abbiamo oggi in studio con noi uno dei founder che si chiama Lorenzo Tisserand. Spero di aver pronunciato bene il cognome. Sì, assolutamente. Grazie, grazie di invito e salve a tutti. Benvenuto. Allora, io ho giocato un po' con lo scioglilingua, con questi nomi che si assomigliano, però in realtà Startax offre un servizio molto importante per le start-up perché i dati ci dicono che aumentano sempre di più le start-up, le piccole e medie imprese innovative. Addirittura nell'ultimo trimestre si parla di oltre il 30% in più, però solo l'8% di queste imprese neonate poi sopravvivono dopo circa un anno e mezzo dalla nascita e non sopravvivono anche perché non hanno gli strumenti per fare consulenza fiscale, per controllare il budget, strumenti che Startax gli offre. Vogliamo raccontare come funziona? Certo, assolutamente. Allora, innanzitutto farei una premessa. Certo. Fare imprese è difficile. Sì, su questo non c'è dubbio. È qualcosa di assolutamente complicato, per cui occorre essere preparati, consapevoli, fare i passi giusti e muoversi nel modo migliore. Se parliamo del mondo start-up, del mondo tech, dell'innovazione, è un mondo altrettanto complicato, occorrono molta conoscenza anche del settore, dei vari settori che sono molto verticali e dunque purtroppo, ahimè, c'è sì una crescita delle start-up, ma anche delle PMI innovative, che è un po' la prosecuzione naturale di una start-up, ma molte purtroppo finiscono poi ecco per liquidare la propria società. Le motivazioni? Le motivazioni sono molte, in realtà sono disparate. Ne possiamo citare alcune. In alcuni casi è il business model, che non è corretto e dunque il prodotto, magari è un prodotto o il servizio che non è così richiesto banalmente dal mercato e finanziariamente poi non si riesce a supportare la crescita del progetto imprenditoriale. Molto spesso anche l'amalgamare ai soci. Non c'è. Il team è importante. Il team è importantissimo. Occorre che i componenti del team abbiano le giuste competenze, si integrino in modo appunto come un'amalgama, in modo molto omogeneo e il grande tema di una start-up è poi il tema finanziario. Certo. Cioè il budget, la possibilità di innanzitutto di autofinanziarsi perché molti start-upper ci contattano e ci raccontano la loro storia e la prima cosa che ci richiedono è a me servono soldi per partire. Esatto. Ce li recuperate voi? È un po' più complicato. E questo appunto è uno dei servizi che Start-up offre insieme anche a quelli che hai enunciato prima. Quindi l'assistenza fiscale, l'assistenza finanziaria, la consulenza legale e anche la consulenza su come costituire una start-up. Voi avete un modello grazie al quale assistete il cliente, l'aspirante start-upper per fargli costituire una start-up in soli tre giorni online. Quindi in maniera molto semplice. Assolutamente. Sì, allora l'idea di start-up. E questo, scusami, tutto in un'unica piattaforma. Quindi non bisogna girare per trovare i professionisti, ma li trovano tutti su uno stesso, su un unico punto online. Esatto, hai raccolto tutti i nostri obiettivi in 30 secondi. Ecco, stiamo vedendo delle immagini della piattaforma. L'idea era di... il grande obiettivo quando abbiamo fondato appunto Start-ups era quello di aiutare veramente gli start-upper in modo concreto, soddisfare le loro esigenze e a 360 gradi. Perché le problematiche in realtà sono molte e vengono affrontate con... Molto spesso, se parliamo di neoimprenditori, con poca esperienza innanzitutto. Per cui non siano proprio i professionisti giusti e non si conoscono banalmente. Non si è entrato in contatto con loro. Per cui questo è il primo grande tema. E quindi dare un servizio a 360 gradi che possa davvero soddisfare tutte le esigenze da ogni punto di vista. Quello che abbiamo fatto noi... E soprattutto professionisti specializzati nel mondo start-up. Assolutamente. Perché non è detto che un commercialista come tu sei, un revisore contabile, abbia le competenze giuste per aiutare lo start-up. Certo, certo. La nostra è una soluzione all'inclusive. per gestire la propria start-up in modo semplice, in modo digitale. E quindi al passo con i tempi. Se vogliamo dare una, come dire, un'immagine, una fotografia, siamo un po' il, non so, il commercialista e l'avvocato 2.0 per le start-up. Per cui siamo partiti da due grandi bisogni, due grandi necessità. La prima necessiterà appunto quello di colmare il vuoto di digitalizzazione che c'è tra i professionisti. Banalmente un commercialista, un avvocato, difficilmente puoi entrare in contatto con questi professionisti in maniera effettivamente digitale. E quindi abbiamo creato una piattaforma. Una piattaforma che è un servizio importante, soprattutto per uno start-upper. Certo. E soprattutto coerente, perché rispetto al tipo di impresa che lo start-upper conduce. Dunque un'impresa dedita all'innovazione. Per cui anche il professionista è bene che faccia innovazione e che veramente capisca le sue esigenze e le conosca profondamente. Perché ci sta passando anche lui, soprattutto. Anche da questo punto di vista. Infatti tu mi hai raccontato, tu sei un commercialista e l'altro co-founder, ricordiamo il nome. Io sono un avvocato e l'altro commercialista, sì. Pardon, scusami, tu sei un avvocato e l'altro co-founder, vogliamo dire il nome. Francesco, assolutamente. Francesco, che è un commercialista. Avete appunto sentito l'esigenza di dare questo servizio, anche perché probabilmente avete sperimentato queste carenze nella vostra vita professionale. Assolutamente, assolutamente. Noi abbiamo chiaramente una formazione, prima ci siamo conosciuti addirittura al master di diritto tributario, noi siamo dei fiscalisti e poi abbiamo preso strade diverse. Diverse, certo. Nel senso abbiamo lavorato sempre a Milano, ma i studi ecco di professionisti qui a Milano, grandi studi strutturati e abbiamo sicuramente appreso non solo alcune nozioni, ma anche la modalità di gestione di una realtà, sì professionale, ma anche imprenditoriale. E poi abbiamo cercato di dare del nostro, per cui di specializzarci in maniera assolutamente verticale sul mondo startup, che è un qualcosa assolutamente di carente. banalmente il commercialista non ne sa molto di startup, parlando molto onestamente, l'avvocato è lo stesso, perché è un mondo nuovo. Pensiamo che la prima normativa sul mondo startup è del 2012, per cui stiamo parlando assolutamente di un mondo emergente. E' importante però dare la giusta assistenza, perché solo così si riesce veramente ad aiutarli per sviluppare il progetto. Allora, vogliamo raccontare bene qualcosa, uno startup che va sulla piattaforma, che cosa trova, cosa può trovare, quali sono le possibilità? Abbiamo detto l'assistenza fiscale, con consulenza online abbiamo visto dal video. Allora, innanzitutto trova noi. Ok. Cioè, è importante ricordarlo, ma dietro allo strumento tecnologico ci sono delle persone, ci sono dei professionisti. E questo è rassicurante. E questo è rassicurante. E professionisti, appunto, specializzati di startup, per cui sono persone che sanno assisterti. La piattaforma è lo strumento tecnologico, è digitale, quindi è molto comodo, e troviamo all'interno numerosi servizi. Noi di solito partiamo appunto dalla contabilità, e dagli aspetti, dunque, fiscali e finanziari, perché condurre una startup significa affrontare i problemi nel day by day. Certo. Più che fare una consulenza spot, il professionista, il consulente preparato, deve esserci in ogni momento, deve stare sempre accanto allo startup. Per cui è una piattaforma in cui, innanzitutto, l'imprenditore può contattarci in modo molto live, con una chat, piuttosto che prenotare un appuntamento, caricare un documento, quindi ha tutto il suo archivio all'interno della piattaforma. documenti e scadenze dentro la piattaforma, quindi appunto diventa poi una piattaforma anche personalizzata, che può sostituire... Assolutamente, assolutamente. Immaginiamo la corrispondenza con il commercialista, no? Di solito uno poi si mette a cercare nelle mail, ah, mi ricordo, mi aveva inviato il documento, ma non lo rovo. Ecco, già quel problema lo risolviamo. Non è sicuramente il maggiore dei problemi, però intanto risparmiamo un po' di tempo, cominciamo da lì e stiamo un po' più al passo con i tempi. E poi abbiamo detto la consulenza sul fundraising, sto leggendo le vostre note. Sì, ci sono poi tutti gli aspetti finanziari, quindi contabili, amministrativi, la fatturazione elettronica, ad esempio, no? Che è molto comoda farla su un'unica piattaforma, piuttosto che avere vari provider. E quindi contabilità, fiscalità e poi tutti gli aspetti finanziari. Quindi avere proprio un, immaginiamo, un cruscotto di controllo, un pannello di controllo con l'andamento economico della propria start-up. E quindi com'è andato questo trimestre rispetto al precedente? Ci sono più ricavi? La cassa, come siamo messi? Abbiamo bisogno di raccogliere? Oppure c'è tutta una serie di dati che consentono di avere sempre sotto mano la situazione. E quindi voi fate network anche attraverso il venture capital, gli acceleratori, comunque tutte le fonti di finanziamento e di accelerazione per le start-up per farle diventare poi via media. Assolutamente. Noi abbiamo, diciamo, due macro-categorie di clienti. Da una parte dei start-up, da una parte dei fondi di investimento che investono in start-up, dunque venture capital, piuttosto che anche imprenditori che investono in questo mondo. Per cui noi facciamo varie attività tra cui mettere anche in contatto, creare una connessione tra la start-up che raccoglie capitali e si sta prestando ad aprire un round di investimento con appunto un investitore che potrebbe essere potenzialmente interessato. Questo non significa trovare i soldi alla start-up, sarebbe poco credibile. Ma sicuramente abbiamo avuto moltissimi casi, sono sempre più frequenti, di connessione, dunque di riuscita, ecco, di questo collegamento tra investitore e start-up. E poi avete anche un servizio compreso dell'abbonamento, anzi a proposito di abbonamento, su LinkedIn, no, su Instagram c'era una domanda riguardante proprio il costo dell'abbonamento per avere questi servizi. Ci sono varie fasce di abbonamento, ci sono... Allora, in questo momento è un unico abbonamento. Per dare un'idea di grandezza. Certo, un mono abbonamento da 299 al mese, che è un prezzo in realtà, come dire, è un annumale ed è un prezzo medio, diciamo, per un commercialista, per l'assistenza ordinaria. Noi a questo, a parte tutta l'attività commercialista, tutti gli adempimenti, è un inclusive, per cui non ci sono poi sorprese a fine anno, viene poi aggiunto appunto il servizio di un avvocato, esperto in fiscale, in societario, e di esperti di fundraising per tutto, non so, occorre fare il crowdfunding, riusciamo a soddisfare questa esigenza, a capire se effettivamente è il momento per farlo, perché questa è un'altra domanda che mi viene posta nella nostra... quando, ecco, le persone entrano in contatto con noi, è vogliamo fare il fundraising. Ok, avete tutti i presupposti di fare il fundraising? Sì, assolutamente, il servizio è bello, eh, no, cioè... Certo, non basta. Anche questo è un po' più complicato, non basta. Non basta dirselo da soli, soprattutto. E poi vedevo che, appunto, riguardo il servizio di consulenza sui finanziamenti, date anche delle informazioni sui bandi, perché poi sono tante le occasioni, no? Certo. E non sempre si riesce a stare dietro a tutte le scadenze, magari cogliere l'occasione giusta proprio per quel tipo di business. Assolutamente. Questo è l'altro aspetto, diciamo, del mondo finanziario. Le start-up, specialmente start-up innovative, quindi qualificate come tale dalla normativa italiana, start-up e PM innovative, hanno numerose opportunità di finanziamento tramite bandi pubblici. È importante, però, fare un'attività di ricerca, di selezione di questi bandi. E noi, è un'attività che facciamo per l'imprenditore sul singolo caso specifico, quindi rispetto all'impresa stessa, immaginiamo, non so, il founder è uomo, donna, under 35, piuttosto che è in quel tipo di settore, è in quello stato di avanzamento della società, insomma, insomma, tutta una serie di parametri. E facciamo, appunto, un'attività di selezione. Nel caso in cui lo start-up decidesse poi di fare applicazione, può anche farla con noi, ci pensiamo. Il senso è di pensare noi a tutto. Certo. Finché si vuole, finché l'imprenditore è a piacere, chiaramente. E poi, ovviamente, per trasformare un'idea in impresa, bisogna costituire materialmente la start-up. E anche questo non è sempre un procedimento immediato, quindi start-ups nell'abbonamento annuale comprende questo servizio di consulenza mirata per costituire la propria start-up online in soli tre giorni. Assolutamente. Bando alla burocrazia, rendiamo le cose semplici. Esatto, esatto. Cerchiamo di essere più veloci possibili e più operativi possibili. Ma questo è un nostro tratto distintivo in realtà in generale, quello di essere molto disponibili. Rispondiamo banalmente a una mail in due o tre ore, massimo nella giornata. La costituzione online, oggi per costituirsi ci sono due modalità. Va fatto comunque con il notario. Questo è importante dirlo. Quindi voi trovate anche il notario. C'è un po' un equivoco, certo. E si può fare o in presenza fisicamente, diciamo, al metodo tradizionale, oppure appunto online, con una videocall. E quello che facciamo, e che includiamo nel nostro annuale, è quello di dare un'assistenza. Quindi fin dall'inizio, fin dal giorno zero, addirittura meno uno, nel redigere gli atti che sono appunto l'atto costitutivo e lo statuto della società. Per cui il regolamento della società, in più appunto troviamo il notario, ci collaboriamo con il notario fino a portare appunto la start-up alla costituzione. Il tema dei giorni, noi in realtà riusciamo a, come dire, ad esaudire le richieste della start-up anche in minor tempo. Molto spesso magari si riesce, molto spesso si va un po' oltre, ma è più che altro per la disponibilità del notario, perché va compatibilmente con i suoi impegni. Assolutamente. E poi oltre ad avere il servizio per le start-up, visto che per avere, per fornire questo servizio c'è bisogno di specialisti molto competenti nel settore start-up, come avevamo detto, voi siete anche alla ricerca di nuovi specialisti per poter allargare il vostro team. Questa dovrebbe essere anche magari un'occasione per chi ci sta seguendo e che è come in un certo senso dall'altra parte. Magari ha le competenze per aiutare le start-up, però non trova un canale. Certo. Vogliamo raccontare cosa cercate? Certo. Allora, questo in realtà è parte da molto lontano, nel senso che, appunto, noi lavoravamo in studi professionali molto strutturati qui a Milano, e peraltro dove si respirava anche un clima, in alcuni casi non serenissimo. Siamo partiti da questo per cambiare, per fare tutt'altro. Immagino anche che il cliente senta questa cosa, senta che noi, i nostri collaboratori, lavoriamo in un ambiente di serenità e di grande specializzazione, quindi bisogna sicuramente studiare, essere preparati, perché altrimenti non si riesce ad aiutare l'imprenditore, ma non si fa nulla di buono, ecco, però è un ambiente anche sereno, penso e spero, ecco, di dirlo, e che appunto sia così, e quindi assolutamente siamo sempre alla ricerca di ragazze e ragazzi interessati che abbiano voglia, ecco, di approfondire questa materia, perché è abbastanza specialistica, e insomma... Vedo nella nota che mi avete inviato che cercate amministrativi, legali, contabili, con esperienza nel mondo startup, ma anche magari che possano acquisire, sviluppare questa esperienza anche lavorando con voi, magari è un lavoro che si può fare anche da remoto? Assolutamente, assolutamente, noi lasciamo massima disponibilità da questo punto di vista, massima flessibilità, sì, c'è bisogno che si, una persona che vuole venire a noi sia già competente, specializzata in queste tematiche, nel senso che piano piano con noi crescerà assolutamente. Vogliamo raccontare anche un po' la vostra storia imprenditoriale, tu già mi hai accennato un po' come è nata questa, l'idea di Startup con il tuo socio, con il co-founder, però mi piace anche qui raccontare non solo il lato luminoso del fare impresa, ma anche quello magari un po' oscuro, che è ugualmente necessario poi per diventare una storia di successo, quindi quali sono magari gli ostacoli maggiori che avete incontrato fin qui, se c'è una lezione che tu hai imparato da un errore, se lo avete fatto? Sì, magari all'inizio avete incontrato voi stessi gli ostacoli della burocrazia che ora cercate di rendere facile. Di sicuro, nel senso, dagli errori e dalle difficoltà che abbiamo riscontrato, cerchiamo di evitarle ecco, ai nostri clienti innanzitutto, ma allora, in realtà la nostra storia imprenditoriale è un po' atipica, nel senso che noi siamo prima di tutto professionisti, per cui appunto la nostra realtà imprenditoriale a tratti potrebbe essere anche uno studio professionale, sotto certi punti di vista, ed è una storia tipica rispetto a chi offre soprattutto un servizio del genere, immaginiamo il commercialista digitale, il fisco digitale, di solito sono appunto ingegneri che cercano di sviluppare e sviluppano un software e poi cercano professionisti per appunto fare il lavoro operativamente. Noi siamo un po' all'inverso. Lato investimenti non abbiamo avuto la necessità di raccogliere, per cui siamo andati siamo tuttora assolutamente autonomi da un punto di vista finanziario, abbiamo sviluppato negli anni già una clientela e quindi poi ce la siamo portata in questa attività imprenditoriale e fortunatamente sta andando bene. Quello che dico sempre ai neoimprenditori soprattutto è quello di ricercare una sostenibilità finanziaria il mondo startup richiede investimenti ma non in tutti i settori e soprattutto non tutti i progetti imprenditoriali sono propriamente delle startup per cui in alcuni casi in realtà non c'è bisogno di ingenti finanziamenti ingenti investimenti. Sì perché c'è da dire che c'è un po' la tendenza a volte di magari mettere l'etichetta startup a realtà che non lo sono perché la startup appunto voi che siete esperti ha delle caratteristiche ben precise. Assolutamente ha delle caratteristiche ben precise è una società che si sviluppa nell'innovazione e dunque l'innovazione molto spesso e sono modelli replicabili che consentono di scalabili consentono di appunto più si cresce e più i margini aumentano questa è un po' l'idea di fondo ma non tutti i settori sono così non tutte le attività sono così per cui in realtà bisogna essere consapevoli dell'azienda che si sta guidando e capire effettivamente qual è la direzione da prendere servono degli investimenti per sviluppare il prodotto benissimo servono investimenti per non so per crescere in modo fenomenale anno su anno a volte è un po' deleterio anche perché in realtà la crescita sostenibile ti consente di capire gli errori che stai facendo man mano e poi di modificare la strada di rettificarla di fare dei cambiamenti passo passo e questo sempre ogni impresa di 50 anni ogni anno si rinnoverà e ogni anno cambierà per cui questo è un po' anche il consiglio da questo punto di vista bene abbiamo spoilerato il consiglio finale del chiediamo sempre a storia di se è successo però magari te ne chiederò un secondo perché probabilmente hai un'altra 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 idea però volevo anche parlare un po' del ruolo dei social soprattutto mi hai fatto venire in mente prima quando hai parlato appunto del commercialista digitale dei consulenti digitali adesso c'è molto anche questo questo trend su instagram innanzitutto ma soprattutto su tiktok di gente che spiega le cose di gente di professionisti anche autorevoli che spiegano in brevi video magari le tematiche fiscali o normative ecco volevo capire nel vostro lavoro se i social vi sono utili quanto li usate quale piattaforma usate di più certo sicuramente il social è la piazza null'altro per cui sono assolutamente indispensabili e fondamentali noi utilizziamo di più linkedin come tipologia di canale ma pian piano questo è un po' un obiettivo anche che ci poniamo di essere un po' più capillari su tutte le su tutte le piattaforme fare anche un po' più di informazione di contenuti che siano peraltro utili ecco già oggi in 20 minuti mezz'ora abbiamo toccato tanti punti e forse è utile comunicarlo cioè partire dalla propria esperienza e insomma poi renderla agli altri quindi magari iniziate da linkedin dove siete molto forti perché ovviamente la piazza professionale è quella però magari un domani potresti anche arrivare a fare dei tutorial su tiktok certo assolutamente visto che tiktok sta anche sviluppando delle sezioni a pagamento con contenuti in abbonamento potrebbe diventare anche una prospettiva assoluta un'idea allora noi ci avviamo alla conclusione se tu hai ancora un consiglio da dare a un aspirante start up o imprenditore magari anche per gestire un po' l'ansia da prestazione non lo so ma allora partirei dalla premessa e quindi di essere consapevoli cioè fare imprese è difficile e bisogna farlo nel momento giusto costituire anche la società al momento giusto non affrettare i tempi c'è questa c'è questa tendenza di affrettare i tempi e c'è anche il tema dell'approvazione sociale che è un tema di cui si parla pochissimo perché immaginiamo un ragazzo un ragazzo che lascia il proprio lavoro da dipendente magari anche un ruolo importante e prima però di costituire la propria società ha bisogno di tempo tempo per approfondire tempo per sviluppare il proprio prodotto il proprio servizio questo è un tempo che sembrerebbe morto ma molto soprattutto per tutti i contatti di questa persona ok ti sei licenziato ma cosa fai cosa stai facendo sei disoccupato sei disoccupato c'è un po' il tema dell'approvazione sociale per cui si tende ad affrettare questo momento e passare subito alla costituzione della società per dire ho un'etichetta io sono un imprenditore e nessuno me lo può togliere non è così semplice non è così partiamo appunto da quello che avevamo detto all'inizio esatto non è così perché in realtà quello è il momento da cui partono anche i costi certo per cui dato che c'è bisogno come dire di contenerli e di limarli soprattutto in una fase iniziale è giusto che ci siano quando è il momento propizio e quindi questa è la premessa il consiglio che mi sento di dare veramente di godersi il viaggio nel senso che l'avventura imprenditoriale poi in realtà è un'avventura scandisce i momenti della vita di una persona le fasi di vita della famiglia di una persona io sono figlio di un imprenditore e lo sviluppo dell'azienda di famiglia veramente ha scandito i tempi i tempi familiari i tempi familiari cosa si poteva fare gli orari cosa non si poteva fare anche le opportunità certo un momento della vita se hanno le opportunità qualche anno dopo se ne hanno altre e questo però è assolutamente mutevole d'anno in anno per cui il consiglio ecco che dai di goderselo questo viaggio di non pensare solamente a fare più fatturato dell'anno precedente ma di di viverla ecco questa cosa e soprattutto ci riguarda anche perché noi siamo due soci in StarTax e le nostre figlie mia figlia figlia del mio socio sono nate a distanza di due settimane e praticamente sono state concepite con la nostra impresa per cui è tutto molto contingente ecco godetevelo perché è una bellissima esperienza bene con questo bellissimo messaggio io concludo la nostra diretta di oggi volevo ringraziare Lorenzo Tisseran per averci raccontato la storia di StarTax e averci raccontato questa storia di start up che aiuta le start up a crescere e a diventare delle PM innovative ringrazio ovviamente tutti quelli che ci hanno seguito vi ricordo che potrete rivedere questa intervista sul sito del Sole 24 Ore e noi ci vediamo come al solito martedì prossimo grazie arrivederci grazie grazie ancora grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti